La provinciale 274 è una strada che purtroppo negli anni è stata teatro di altri incidenti stradali. Numerosi sono gli appelli di diversi cittadini nel Cilento che quotidianamente percorrono le arterie stradali dell'area del parco, ormai usurate dagli agenti atmosferici. Proprio qualche giorno fa la denuncia di un cittadino che documentava attraverso una diretta Facebook le condizioni pessime della strada SS 166 via degli Alburni sotto Castel San Lorenzo fino all'inizio della SP Isca Tufalo chiamata via Salvatore Valitutti sotto il comune di Bello Sguardo. La condizione di queste strade, ricorda il cittadino, è un fattore che riguarda tutto il territorio cilentano. Bisogna intervenire senza trovare più scuse.